ah Olga, adesso faremo un esperimento, lei farà due note e io inventerò un brano da queste due note forza, schiacci due note a caso ok, vada, ok, ripeta un po', ripeta queste prime tre quattro vabbè ok, apposto, apposto ok ok, apposto, apposto eh, niente male, vero? tutto improvvisato, ragazzi